E se ti fermassi per un solo istante, uno solo, e provassi a sentire l'aria, riusciresti ad ispirare, a percepirne ancora tutto il sapore, a godere del suo benessere. Se per un solo attimo, decidessi di fermarti, di trattenere il respiro, di guardarti intorno e ascoltare. Riusciresti davvero a sentire che tutto ciò che ti sta intorno oggi è come lo era un tempo. Senti l'acqua scorrere e pensaci. Hai paura che possa ribellarsi, crescere, salire fino alla gora e soffocarti. Adesso guarda in alto, un po' più su, e chiediti. Non vorresti forse che quel fuoco ci riscaldasse ancora, senza bruciare tutto? Non vorresti forse che quel fuoco ci riscaldasse ancora, senza bruciare tutto ciò che ci riscaldasse. Non vorresti forse che quel fuoco ci riscaldasse ancora, senza bruciare tutto ciò che ci riscaldasse ancora, senza bruciare tutto ciò che ci riscaldasse ancora, senza bruciare tutto ciò che ci riscaldasse. Grazie. Grazie. Grazie.